I segni sono come le parole, come le note della musica. Così è iniziata la presentazione del nuovo progetto artistico promosso dalla Banca di Piacenza nell'iconica Sala Ricchetti. Un'idea che vuole promuovere la concatenazione di diverse forme artistiche attraverso l'esibizione di opere compiute e la performance di una mostra viva. Segni, parole e note è un dialogo tra diversi interlocutori, nello specifico tra il Liceo Artistico Cassinari e il Conservatorio Nicolini, due istituzioni che si occupano della formazione nel panorama artistico piacentino. Abbiamo voluto fare un laboratorio nel quale io sono partita a riflettere su un fenomeno storiografico non ancora definito alla scuola di Piacenza, per intenderci Spazzali, Foppiani, Cinello e Armodio. E i ragazzi, sia dei Nicolini e del Cassinari, l'hanno interpretato a loro modo. Il progetto parte dalle parole, dalla storiografia artistica, dai discorsi dei pittori e dei critici. Dialoghi attraversati dalle opere esposte dagli artisti selezionati, che fungeranno da perno nel waltzer degli eventi previsti dal progetto. Da questo corridoio di pensieri astratti, il dialogo si materializzerà infine nell'espressione pittorica e musicale dei giovani studenti. Un workshop dove le persone si possono trovare e integrare l'uno con l'altro. Cioè avremo gli studenti del Nicolini insieme agli studenti del Cassinari. Lavoreranno insieme e il visitatore potrà interagire con loro assistendo alle lezioni, partecipando. Ci sarà un angolo degli artisti, dove gli artisti potranno anche cimentarsi in extempore dal vivo. Quindi un laboratorio live.